ecco che si ricrea fai il film fai il film che sto creando una slavina fai il film lo stai facendo si si io continuo io non sto togliendo sabbia sto semplicemente togliendogli la capacità di di avere supporto e quello continuo a cascare guarda che miracolo io tolgo la sabbia da un lato e quella casca dall'altro lato e si crea tutta questa situazione antico canyon da questa parte fai il filmato di questo canyon è inscavabile questa sabbia è inscavabile